com'è cambiata la vita dei giovani dopo la pandemia il covid-19 c'è ancora ma di certo sono finiti i tempi del lockdown o almeno si spera ne stavamo parlando con le nostre ospiti in studio a partire da Chiara una giovane ragazza di San Benedetto del Tronto insieme alla sua mamma che tra l'altro è impegnata sul fronte dello sport massina con cui stavamo facendo una riflessione anche durante la pubblicità su quanto è difficile anche essere e fare il genitore specie di questi tempi in cui si riscontra un aumento ad esempio l'uso di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche come si approfondiva prima con la dottoressa Luzzi alla luce di dati che sono stati illustrati di recente proprio nella città rivierasca che delineano un andamento alquanto preoccupante ovvero un aumento appunto di sostanze alcolemiche stupefacenti e poi cambiano le motivazioni si beve di più per non pensare dottoressa Luzzi un effetto anestetizzante ma anche eccitante per avere prestazioni sessuali o almeno questo è ciò che credono i giovani perché poi non è non è così anzi andiamo ad ascoltare proprio un esperto ovvero il dottor Claudio Cacaci che è direttore del dipartimento dipendenze patologiche dell'area vasta 5 al quale abbiamo posto proprio queste domande sul fronte dell'alcol e poi gli effetti che questo genera nei giovani sentiamo Possiamo osservare la popolazione che soggiorna all'uscita dalle discoteche in quali condizioni si trovi Quelle che si chiamano le droghe chimiche chiamano le nuove smart drug hanno il rischio di essere così sono così sconosciute tra virgolette perché nemmeno quelli che le vendono spesso sanno che cosa stanno vendendo ci sono circa 900 nuove sostanze supefacenti e molte vengono contrabandate come tali non lo sono altre invece sono proprio arrembate così arrabbattate da chimici che poi le mettono sul mercato e sperimentano gli effetti i ragazzi che li assumono quindi non è che c'è una difficoltà anche ad individuarle l'unica prevenzione prevenzione ci può essere per cercare di indurre le persone a ragionare anche se quelli che sono molto giovani purtroppo ascoltano poco queste raccomandazioni perché l'impressione che siamo voci nel deserto queste un messaggio ai giovani molti utilizzano l'alcol l'hanno detto in questi questionari proprio per essere più disinibiti anche rispetto ad una relazione un rapporto sessuale cosa possiamo dire loro potrei vendermi una frase di oscar wilde l'alcol aumenta il desiderio sessuale ma solo il desiderio e questo lo lascio ai maschi per la verità in effetti a basse dosi l'alcol disinibisce a basse dosi quante dosi aumentano poi diventa un sedativo del sistema nervoso centrale quindi rallentano tutto se c'è qualcosa che uno non deve utilizzare è l'alcol messaggio mi sembra chiarissimo vedevo massina annuire alle parole del dottor cacaci che ne pensa penso che purtroppo i ragazzi non si rendono conto cosa vanno incontro cosa è che per loro adesso è più una norma è diventato una normalità bere fumare fare uso di stupi facenti e arriveranno sicuramente alzeranno sempre di più la sticella quindi sicuramente arriveranno un punto in cui non non basterà più questo forse noi genitori dovremmo renderci conto che abbiamo dato troppo quindi loro adesso questi ragazzi ci hanno troppo effettivamente e noi troppo che intende troppo anche a livello economico perché io perlomeno ho sempre cercato di fargli la 50 euro in tasca esatto mentre che ne so personalmente cioè per dire i miei figli magari è logico e giusto dare qualcosa perché non è meglio sempre anziché che magari dare che magari farglielo andare a trovare in situazioni sbagliate però dare adesso se prima si dava quei 5 euro adesso tu gli hai detto al ragazzo in tasca 50 euro 50 euro già con la situazione economica in cui viviamo adesso che ci mandare 50 euro per di più loro non hanno più il valore proprio del del denaro e quindi spendono 50 euro tanto posso comprare questo e mentre prima perlomeno noi perlomeno parlo anche per me se ci avevamo dei soldi in tasca ci andavamo a comprare che ne so una maglia che volavamo che volevamo che desideravamo adesso i ragazzi per loro è scontato perché hanno quella maglia ce l'hanno quella scarpa che vogliono firmata ce l'hanno e quindi è un per di più è come quando noi non ci compravamo le caramelle per loro è andasse a comprare altri tipi di caramelle chiara quando il dottor caca ci diceva vediamo la popolazione giovanile su giornale in quale condizioni fuori dalle dalle discoteche a te mai capitato diciamo di avere questo questo riscontro non so l'uscita dei dei locali vedere ragazzi in condizioni no estremamente critiche se spesso sono anche da quando ho commentato anche molto il bere alcol aumentato anche molto sono anche molto mentale le risse poi le discoteche si è quasi all'ordine del giorno se tu in discoteca quando esci vedi una rissa una due tre e anche perché alla fine le risse le fanno chi è che ha bevuto la maggior parte dei casi e si vabbè anche all'interno delle discoteche si vedono persone portate magari a condizioni anche pietose però sono lì ci sono dopo i buttafuori che comunque li cacciano e quindi una volta che esci li vedi fuori tutti fuori quindi non è tanto un problema sicurezza è più un problema sociale ecco dottoressa Luzzi però per esempio chiara ha aperto una parentesi importante no quello è il tema della violenza cioè queste risse di cui spesso parliamo anche noi giornalisti no dando le notizie che purtroppo arrivano sono la causa o l'effetto di un disagio? c'è una disregolazione proprio emotiva e comportamentale che accennavo prima alcuni disturbi di personalità hanno come tratti proprio queste caratteristiche questi modi comunque di sentire cioè la fatica proprio a reggere le emozioni a reggere lo stress il rifiuto o la frustrazione mi è venuta una riflessione anche rispetto a quello che diceva Massina e Cacace nessuno demonizza la bellezza per esempio degli energy drink che combinati con l'alcol sono assolutamente pericolosissimi hanno queste bottigliette e le sigarette elettroniche questi puff sono veramente stupendi chiara annuisce quindi evidentemente conosce questo tipo di... sono bevande pericolosissime anche lì con la caffeina ma perfettamente legali acquistabili al supermercato fanno male e più questi puff queste come si chiamano sono accattivanti perché sono dei gadget stupendi per la loro età lei prima diceva chiara faceva riferimento a bambini no che ne fanno uso e certo che ne fanno uso profumano di mango di vaniglia sono accattivanti diciamo sono accattivanti e quindi a quel punto diventano... sono vietati ai minori per esempio queste puff sono vietate ai minori ma i miei conoscenti me l'hanno fatte vedere l'ho sentito l'odore profumavano quindi non sembrerebbero hanno una ricarica non so quanto di autonomia e poi sono usa e getta quindi inquinano ce l'hanno tutte le caratteristiche io non conosco questo mondo lo so scoprendo adesso la PAF è una sigaretta elettronica usa e getta che puoi acquistare anche gli distributori di sigarette ma ci sono anche... cioè si vendono in giro comunque anche tramite amici possono avere 600 tiri 1800 ma è vero che profuma quindi comunque... si è come la sigaretta elettronica classica che tutti conosciamo che ha un sapore che ha un odore anche e lì puoi scegliere hanno vari sapori ma secondo voi perché? perché dopo se do un bacio così sono... no vabbè anche tipo lo usano molti per smettere di fumare io parlo per quelli della mia età perché alla fine ha sempre un po' di nicotina però è poca però ecco per chi invece vuole iniziare a fumare la PAF non ti lascia l'odore di sigaretta addosso che tu una volta tornata a casa magari i tuoi genitori possono sentire ah perfetto perfetto io invece credevo fosse un vantaggio per poi baciare un ragazzo e non avere addosso quell'odore di fumo no ma sono accattivata cioè c'è un marketing dietro anche importante no? come diceva prima Massina ci troviamo di fronte comunque a un disagio profondo trasversale e i ragazzi rispondono a questo disagio con gli strumenti che trovano e trovano troppo facilmente accesso a sostanze nocive però io mi metto nei panni di un giovane che magari ci sta ascoltando e dice ma quale disagio? cioè io faccio quello che fanno tutti cioè non è che sono un soggetto problematico mi piace fumare e fumo, mi piace bere e bevo poi chi lo dice che io ho un disagio? lei come risponde dottoressa Luzzi a questo? questa è un'osservazione corretta nel senso che la normalità sta diventando cioè la norma che cos'è? è quando è condivisa dalla maggior parte delle persone per cultura diventa sdoganato e quindi lecito e questo continua a cercare nuove, intanto nuove esperienze perché purtroppo questo è l'aspetto un po' negativo dei social se non c'hai quell'abbigliamento o se non sei andato a fare quell'esperienza sei nessuno quindi la piazza vera è poi diventata quella della pubblicazione sui social dell'esperienza o del gadget o dell'abbigliamento eccetera questo c'è stato sempre in più che cosa succede? i ragazzi nell'adolescenza, nel momento in cui si discostano dalle figure genitoriali trovano nel gruppo dei pari un nuovo appiglio che li porta poi a strutturare la loro personalità quindi andare nel mondo, mi differenzio dalla famiglia che viene un po' demonizzata e grazie all'identificazione con i pari si costruisce insieme l'adulto di domani purtroppo però ecco se i miei coetani fanno tutti uso di sostanze stupefacenti o alcol oppure hanno una disregolazione emotiva perché tutte le emozioni sono difficilmente contenibili ecco qui che ci troviamo di fronte poi a risse di fronte a episodi di bullismo che non dobbiamo, c'è stato sempre però le figure che poi lo vivono, le persone che lo vivono è veramente devastante però non dimentichiamo anche gli effetti a livello proprio fisico che queste sostanze, perché secondo me i ragazzi a questo non pensano proprio perché sono giovani, si sentono invincibili eccetera però gli effetti sono veramente devastanti sul sistema nervoso centrale quindi in termini anche di attenzione e rendimento scolastico ma questo è il meno poi bisogna guardare agli effetti a lungo termine prima il dottor Kakashi parlava di 900 tipi di droghe nuove smart drug che girano e che quando poi accadono delle tragedie sono anche difficili da individuare proprio perché gli ospedali non dispongono di altrettanti reagenti proprio per andarle ad esaminare e questo è molto pericoloso perché poi chi spaccia queste sostanze ne studia gli effetti proprio sulle reazioni che hanno questi ragazzi cioè questi ragazzi senza saperlo fanno da cavie o no? sì sì il problema è che se il ragazzo inconsapevolmente ha una fragilità personologica e quindi per personologico proprio di personalità non è perché in parte la fragilità è dovuta anagraficamente all'età non sono strutturati però delle fragilità latenti chiamiamole così possono attivarsi con l'utilizzo proprio di queste droghe e queste sostanze che vanno ad agire sul sistema nervoso centrale oltretutto è un corpo quello dell'adolescente di questi ragazzi che deve ancora finire di formarsi quindi indubbiamente a livello salutare non è salutare poi le famiglie come possono intervenire sicuramente potenziando quei fattori protettivi e uno di questi è lo sport circoli o associazioni che permettano uno scambio sociale sano promuovono anche un corretto stile di vita forse questa è la vera prevenzione sì anche se io ho riscontrato sempre in quella fascia di età il fatto che i ragazzini si vengono per far contenti ultimamente vengono per far contenti i genitori perché così magari i genitori vabbè fai quello così dopo puoi uscire e quindi non stanno più prendendo lo sport come passione come cosa che fa bene anche alla salute che fa bene a livello di socializzazione che fa bene ma anche per avere amicizie diverse esatto veramente invece loro vengono lì perché mamma mi ci porta perché così se no non mi fa perché questa cosa già non è l'approccio giusto che tu devi avere per lo sport perché rischi che lo odi dopo e quindi di conseguenza quando vai via da lì per fortuna basta e quindi secondo me c'è una linea sottile che tutti dobbiamo riuscire a tenere perché se usciamo da quella linea si perde tutto nel vero senso della parola e quindi noi genitori dobbiamo collaborare con il mondo dello sport con il mondo della scuola con tutti insieme solo tutti insieme riusciamo forse anziché farsi la guerra esatto troppo spesso vediamo famiglie e professori che vanno allo scontro invece veramente bisognerete navigare tutti nella stessa direzione Chiara oggi com'è la tua vita cosa studi di cosa ti occupi io insegno vela ai bambini al circolo e dopo di che mi sono iscritta da poco all'università di Macerata scienze politiche professionali bello però è uno studio fatto molto per hobby il mio lavoro che vorrei fare nella vita appunto è allenare bambini ragazzi restare nel mondo della vela beh lo studio comunque è sempre un bagaglio si studia per come piano B certo ma comunque è qualcosa che poi nessuno può togliere però è una cosa che ami fare che vuoi fare non che la vela che cosa ti dà perché ti piace perché questo sport a me la vela mi è sempre piaciuta perché mi cioè è uno sport dove sei per lo meno la barca che facevo io è un cingolo ed è uno sport dove tu in mare sei solo e sei da solo con le tue idee con la tua testa con cioè non puoi dare la colpa a nessun altro degli errori dopo io ho fatto anche altri sport ho fatto nuoto ma il nuoto a me non piaceva perché era molto monotono come sport a mio occhio poi rimanevi in basca in mare sì mentre in mare io ecco mi sentivo più libera più cioè stare con la barca è come cioè devi sentirla devi capirla è come se sei con un'altra persona senti con i bambini come ti trovi bene sono disciplinati sono severa io però sì sei severa sono molto severa però mi trovo bene con i bambini mi è sempre piaciuto stare in compagnia di bambini e ragazzi giovani dottoressa Luzzi questi ragazzi vengono quindi seguiti anche nelle scuole voi per esempio che lavoro state facendo in questo periodo ripartire perché molto dipende a livello burocratico purtroppo dai progetti che partono se ne è concluso da poco cioè nel senso a luglio è stato chiuso un progetto che durava da tre anni progetto Next proprio della scuola il passaggio nella scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado quindi la scelta delle scuole superiori che cosa succede che i ragazzi hanno proprio bisogno tanto 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 di parlare in realtà nel senso che gli incontri poi a scuola con un professionista esterno questo a mio parere non che debba essere io però nel senso il professionista esterno permette ai ragazzi di aprirsi poter dire che magari non amano la determinata materia senza per questo sentirsi in colpa o avere timore che un docente possa magari rimanerci male e invece costruire indagare perché quella materia magari una persona non la ama particolarmente quali sono le materie preferite eccetera e fare tutto un percorso di costruzione di un'identità di sé perché poi in realtà l'orientamento è andare alla ricerca di un abito su misura più l'abito come diceva poco fa Chiara più l'abito io me lo sento mio comunque è difficilissimo secondo me per un ragazzo perché capire quel che si vuol fare già a 18 anni ma anche indagare gli hobby per esempio magari un'altra famiglia non avrebbe sostenuto un figlio su uno sport che sta diventando invece un po' identitario dove la persona anche tramite lo sport per esempio o il percorso di studi in realtà riesce a tirar fuori chi è anzi ci sono quelle famiglie che impongono scusami impongono magari un percorso di studi che secondo me sebbene magari caricate da una responsabilità e da tutte le buone intenzioni però non so quanto possa far bene pensiamo non so una famiglia di avvocati che dice al figlio no tu devi fare l'avvocato perché a casa e poi in teoria è anche giusto perché bisogna ragionare ecco appunto con la concretezza dall'altro lato veramente si può tutti i giorni mi trovo lavorando sia con l'età evolutiva in terapia ma anche con gli adulti quanto spesso mi capita di persone che sognano la sliding doors se avessi studiato questo se avessi fatto quell'altro molti perdonano ecco i genitori perché mossi da buone intenzioni no eh sì per garantirgli un futuro no lo fanno esatto quel percorso di studi non ti garantisce il lavoro quest'altro invece è più remunerativo quindi sicuramente questo però l'orientamento anche il filone europeo che sono sicuramente all'avanguardia rispetto a noi che magari ecco ci adattiamo e ci sembra di fare orientamento con l'open day scusate non voglio accusare questa pratica che è fantastica perché io posso vedere le scuole ma orientamento significa confrontare in maniera critica i piani di studio le varie materie capire che ogni per esempio ogni scuola ha una una parte comune che è composta da determinate materie e poi una specializzazione sempre più focalizzata sul ramo su un certo ramo e poi rimettere in discussione e arricchirsi cioè orientamento non significa buttare via delle parti di sé ma integrarle in un tutt'uno dotato di significato e magari scoprirle e scoprirle esatto ci vorrebbe è un discorso lunghissimo molto interessante ne parleremo magari la prossima volta io intanto vi ringrazio per essere state qui con me dobbiamo chiudere più che altro rivolgo un grosso in bocca al lupo a Chiara per il suo percorso tra sport e studio e chissà tante altre passioni che verranno davvero un grosso in bocca al lupo grazie anche a voi per essere state con me ci fermiamo una breve pausa e poi ripartiamo perché abbiamo dei collegamenti da proporvi da Marche e Abruzzo a tra poco grazie a tutti